Adriana Volpe non ha dimenticato come si fa l'opinionista del grande fratello VIP. Oggi ha pubblicato un video sui suoi profili social in cui si è scagliata contro il cast attualmente nella casa per come è stato gestito il caso Marco Bellavia. Non si è tirata indietro e ha fatto nomi e cognomi dei concorrenti che più di tutti si sono scagliati contro Marco, consapevoli o meno delle sue condizioni ma colpevoli dal punto di vista umano senza dubbio. Tantissimi sono intervenuti in questi giorni per condannare il comportamento dei concorrenti del GF VIP 7 e tantissimi hanno difeso Marco da ciò che è successo. Lui è tornato a casa, è vero, ma con l'affetto e il supporto di un pubblico intero. Tommaso Zorzi nelle scorse ore ha scritto un messaggio di vicinanza a Bellavia a nome di tutto il cast del GF VIP 5, che si è sempre supportato nella casa. Tanti suoi compagni d'avventura hanno condiviso il messaggio anche sui loro profili, confermando quanto detto da Tommaso. Oggi Adriana Volpe ha massacrato il GF VIP 7, cosa sta succedendo nella casa? Io non riconosco più nessuno. Non ho mai visto tanto odio e tanta cattiveria. L'ex opinionista ha poi ricordato che questa doveva essere l'edizione della condivisione e dell'inclusione, anche per la presenza di Giovanni Ciacci, primo concorrente siero positivo a partecipare al reality show. Niente di tutto ciò è successo con Marco Bellavia, sappiate che siamo tutti indignati. Adriana si è dedicata poi a ogni concorrente che ha trattato male e non è stato per nulla empatico e comprensivo verso Bellavia. Ha parlato di Eleonore Ferruzzi che ha parlato del suo dolore per essere stata discriminata e che però ha fatto lo stesso con Marco. Non ha risparmiato neanche Ciacci, nonostante sia un suo amico, gli ho dato supporto giovedì scorso. Ma come è possibile, Giovanni? Poi ancora su Carolina Marconi, che ha combattuto contro il tumore al seno e che conosce al seno, mai mi sarei aspettata una battuta come tu sei patetico. Giovanni, Carolina ma secondo voi esistono malattie di serie A e malattie di serie B? O dolori di serie A e di serie B? Vilma Gogh che dice sei la causa dei tuoi mali. Ma vi rendete conto della gravità delle vostre? Si è scagliata anche contro Ginevra Lamborghini, Patrizia Rossetti e Gegia. Adriana Volpe come il pubblico stesso ha salvato solo due o tre concorrenti, ma gli altri sono stati complici e fautori di questo allontanamento. Non ha dimenticato di condannare la reazione al comunicato dell'abbandono di Marco, quando si sono detti dispiaciuti e che sarebbe mancato tanto. Tutti abbiamo capito quanto falsi siete. A voi non mancherà, ma al pubblico sì. E per il pubblico Marco Bellavia è l'unico vero vincitore di questa edizione, ha concluso.